Essere ciechi apre molte porte. Si ha accesso ad altri mondi. La scienza ci permette di pensare che ciò che noi chiamiamo destino non è l'unico destino possibile. Ma esistono altre realtà parallele nelle quali tutto ciò che è probabile può accadere. È possibile vivere più di una vita, come una commedia dai molti finali, ma non uno dopo l'altro, tutti insieme, simultaneamente.